Sto chiamando Gerry Scotti perché voglio fargli una sfida al telefono, vediamo se risponde Pronto? Pronto Gerry, ciao, sono Lorenz, Lorenz Simonetti, ti ricordi di me? Sono Lorenzo, certo, dimmi tutto Ti chiamo perché volevo lanciarti una sfida In pratica, io voglio farti sentire una mia canzone che non è ancora uscita e tu mi dici se devo farla uscire oppure no Hai visto che non sei niente da fare verificare? Ok, va bene, va bene, dai, ascolta qua Io non saprò ancora il perché Sei così raggiungibile Sei così raggiungibile Vorrei amarti ancora Ma non ho più paura Sei così raggiungibile Allora Io la voglio come scilla delle belline striscia Quando è se Esce l'8 settembre Chiama irraggiungibile Se questo video fa centomila La mettiamo come scilla delle belline Senesimo difetto